Un viaggio virtuale attraverso Montesilvano. Diversi influencer e blogger sono stati reclutati dal comune in provincia di Pescara per promuovere il territorio. Il nome dell'iniziativa è Hashtag Treppi Montesilvano, giunta alla seconda edizione. Anche quest'anno ospiteremo numerosi food e travel blogger con un seguito già targhettizzato, che è l'utenza che interessa alla parte turistica della nostra città. Quindi questi blogger, influencer cercheranno di vivere su Montesilvano delle esperienze food, sport e di intrattenimento da poter poi comunicare all'esterno per rendere ancora più appetibile la nostra città attraverso dei mezzi di comunicazione un po' meno istituzionali. Quindi cerchiamo di stare al passo con i tempi e ci adeguiamo a quella che è la comunicazione odierna. Lo scorso anno, fanno sapere dall'amministrazione, si è superata quota 200.000 presenze virtuali. Oggigiorno anche la comunicazione istituzionale è sempre più social. Noi crediamo molto in questo tipo di comunicazione. Pensiamo che anche un'amministrazione comunale, un ente pubblico, debba, tra virgolette, svecchiare alcuni format un po' troppo rigidi per quello che è soprattutto la promozione turistica. Per arrivare più tenze possibile, oggigiorno è necessario e indispensabile adeguarsi e utilizzare i mezzi di comunicazione che sono poi quelli più utilizzati della stragrande parte della maggioranza. Quindi è importante essere presenti su social come TikTok, Instagram, Facebook. Questo penso che sia un mezzo di promozione molto molto efficace. Tappe del viaggio digitale potranno essere anche aziende e attività. Gli esercizi che vorranno partecipare potranno farlo contattando il comune. Grazie.